Le tensioni tra due vicini di casa canicattinesi sono sfoggiati nella denuncia per minacce presentata da uno dei due contendenti. Una vicenda che affonda le proprie radici nel tempo, visto che tra i due canicattinesi i rapporti sono sempre stati piuttosto tesi, nel dettaglio per questioni condominali e pagamenti di utenze. Tensioni che hanno raggiunto il loro apice nei giorni scorsi, secondo quanto ricostruito fin qui dai poliziotti del commissariato di canicattì. I due protagonisti in negativo della vicenda hanno affrontato l'ennesima discussione dai toni piuttosto accesi, finché uno dei due ha minacciato di morte l'altro, che si occupa anche della contabilità condominiale. O almeno questo è ciò che emerge dalla denuncia che quest'ultimo ha presentato in commissariato. Stavolta al centro della lite la questione legata alla pulitura del piazzale condominiale. Ed ecco che sempre secondo la ricostruzione investigativa era nata la nuova diatriba, fino a quando l'indagato avrebbe detto di non avere più intenzione di pagare il condominio e che avrebbe sparato in bocca all'altro residente, scena alla quale, a quanto sembra, hanno assistito anche altri condomini.